ecco è Fabio che finge di fare discorsi seri e poi sparacazzate per un'associazione di idee meravigliosa sono arrivata a ricordarmi di una marca di Durstel che si chiamava Suillo Suillo è bellissimo ecco loro sono qui perché Valentina da che stiamo facendo un discorso serio e stiamo parlando di reputazione, di content creato Suillo, cioè lei Suillo ditemi che la conoscete anche voi in contumacia che è successo cos'è che aveva detto? aspettavo avvi iniziato un messaggio scusate l'avete letto il messaggio di Porto Mannano esatto